Musica 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 Don two Non fa WHAT A PARE SUBITO con un aim impressionante Volevo golavo Sir Come stai Protatello come stai Ciao Andreonne Gianluca Benvenuto a tutti ragazzi DISTURBATORE RADAR NEMICO NELLA VOSTRA AREA Mamma mia il don't fire Ma vai a cagare vai Vabbè 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 Ciao concetto Grandissimo E' il primo game Fammi scaldare un po' insomma Fammi prendere Un po' di consapevoletto insomma Sto giocando Merda ma GG E' il primo game E' il primo game Don't fana stai calmo Don't fana eh E' normale che ti ammazzano così Perco due sgara con le 100 Mio fratello mamma mia Sgara come stai fratellone Con le 200 sgara così No parla proprio mio fratello Grazie mille Sgarkones per le 200 Grazie 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 Sgara Grazie per il supporto bro Grazie mille Mamma mia Mamma mia è impazzito Gioseph anche lui con le 50 Vuole far partire un party E lo fa partire Grazie Gioseph Grandissimo E mo lo chiudete E mo cazzi vostri Lo chiudete E mo lo chiudete Cazzi vostri Grazie mille raga Gioseph Grazie anche a te bro No parla a te Signor sgara Entra e basta No parla proprio Vedi sgara Quando ti dico che I miei follower Ti vogliono bene Guarda Nicola Nicola Comodino Guarda Grazie sgarkones Con le altre 100 Mio dio Partiamo subito Subito carichi Grazie sgara Grazie sgara Per le altre 200 Bello mio Grazie mille bro Angelo Grazie per l'apponamento Il regalo Fratellone Grazie mille Mamma mia Ciao Nic Come stai Grandissimo Buongiorno Nico Bello del don Cosa mi racconti Mamma mia Grazie sgara Per le stelline bro Grazie di cuore E grazie Angelone Per l'abbonamento Ciao Nicolás Benvenuto Bello mio Benvenuto in live Big bro Big bro Ste Audi Ma quindi mi senti Cioè se io ti dico ste Mi puoi rispondere in chat No E per la seconda volta Volo con Minchia ma che cazzo Ah oh Nicolás Ma qua Ci abbiamo Cioè ci abbiamo Gli anticorpi Un po' addormentati Nicolás Dove sono Ciao Ma benvenuto Bello mio Mamma mia Sgara Con l'abbonamento Il regalo Anche lui Si lancia con la Sabi Il regalo Sgarcones Mio fratello Grazie mille Sgara Vedi 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 Michele Cosa ti dico io Vedi che la mia chat Ti conosce Che devi iniziare a streamare Devi giocare con me Dobbiamo fare i content Insieme Ma lo vedi Ragazzi Michele Sgaramella È mio amico Dentro il mio Gruppo Dentro il mio team E questo ragazzo Vorrebbe iniziare a streamare Su facebook No Però c'ha già una bella community Su facebook Dico io Ditegli Ditegli di venire a streamare Cioè che cazzo Vieni a streamare Oh Mamma mia Mamma mia Grazie Sgara Per le 100 Fratello Grazie mille Angelone Mamma mia Angelone è partito Con i 25 abbonamenti In regalo Mio dio Mamma mia Angelone Con i 25 In regalo Sei un grande Cazzo Sei un grande Ciao E' matto Elisa Benvenuti a tutti Ragazzi Mamma mia Angelone Fa vedere che c'ha Una minchia lunghissima Angelone L'ha tirata fuori Ce l'ha fatto vedere La cappella L'ha fatto vedere Mamma mia Così Così Angelone Pazzone Mamma mia Così 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 Mamma mia Agente segreto Ragazzi Ha deciso di farci vedere Quanto c'è la lungo Però proprio precisamente Proprio 25 centimetri Uccidete i nemici Senza che lo facciano loro Mamma mia Zio Vabbè Fratello Non muori Non muori Vero Non Ha messa Tutta in tavola Ragazzi Mamma mia Diglielo Nicola Porco Ma poi stream Con me Facciamo i content Insieme Nicola Capito Ancora più figa La situazione Io urlo Lui fa Fai le sue Sniperate Facciamo un macello Ora vinci Per forza Ma facciamo la win Ma ho fatto la win Per forza di code Ragazzi I fraggers C'è un soldato Oh zio Ciao Giovanni Ragazzi controllate Se avete Vinto la sub Perché ne stanno girando 30 sub Insomma Se non siete follower Ragazzi Oddio Oddio Stefano Odisio Anche lui Non ne vuole sapere niente Stefano Odisio Entra Con il cazzo Durissimo Anche lui Mamma mia Grazie di cuore Chat Vi voglio bene Vi voglio tanto bene Chat Mamma mia Pazzi scatenati E poi Però è riuscito A donare le sub E mi ha scritto Suca Zucchina Buongiorno Ciao Sara Fabiolone Buongiorno a tutti Ragazzi Mamma mia Superate Superate Strasuperate Anche Mamma mia Comunque la mira Del Donfano Alla mattina Ragazzi Sembra un po' Quando Non lo so Un po' Quando sei lì Con una tipa In macchina La sera E non trovi Il buco Uguale Io non trovo La testa Della gente Uguale No Mi dissocio Non sto riuscendo A fightare Ve lo giuro Colpa vostra Che grandio Abbiamo raggiunto Le 2 c Ma qua a fine mese Arriviamo a 300 Raga Scherzate Siamo 10 giorni Prima a 200 Ma va Pazzoi Qua sono scatenati Grazie Ti voglio bene Comunque Grazie a te Ok Ok Capelli bianchi Raga Capelli bianchi Adesso Morco 2 Don Devi fare il coaching Per trovare il buco Me lo vuoi fare tu Miki Dona sicuro Arrivando Davide Agostini Buonasera Ragazzi Ci sono 30 sub In giro Per favore Dai eh Riscattiamo Ste sabbettine Mannaccia Tutte cose Guarda dov'è Guarda dov'è il cane Guarda lì Bucato 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 E non mi toccare Capito E non mi guardare Com'è Non mi devi guardare Mamma mia Davidone Grazie per la condivisione Per il like bro Ah no Così Nicolino Proprio Così mi stai scammando Anche a me Cazzo di Cazzo di Michelo Ringraziate Angelo E Stefano Audizio Se vincete le sale Ragazzi Merdo Ma sai che sta tornando Mattia Sai che sta tornando L'XM4 Veramente Fai buchi 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 eh Mamma mia Sgara Se facciamo Se facciamo 1v1 Io e te Su Su Shipment Frate parte La quarta guerra mondiale Veramente Bravissimo Hai fatto 20 bombe Meravissimo Ho visto Ci sono rimasto male Fai te Ciao Nicolino Buongiorno Fratello Come stai Nico Tutto bene Ciao Lorenzo Benvenuto Bello mio Come state Ciao Tutto bene Cosa fate raga Siete in pausa Pranzo Esatto Domani è il grande giorno Domani ci spariamo Un coaching Nicola Che esci fuori Diventi il top Fragger Più potente Di dove abiti Tu Con due Non mi sto in arrivo Nell'area Non mi sto in arrivo No Non mi sto in arrivo No Roberto Ho fatto 20 bombe Ho visto Visto Il mio moderatore fortissimo 20 bombe a parte che il mio moderatore da coaching gratuito per quello ha fatto 20 bombe se proprio vogliamo dirlo carabina sto usando l'XM4 tia non sto usando la carabina bro io non è proprio un'arma che uso la carabina e quindi il settaggio posso andare a fartelo se vuoi fratello ma non è proprio l'arma che uso io ecco scherzando davidone cucciolo ma vai affanculo morto da te morto da te dietro l'angolo ciao massimiliano fabrizio nicola benvenuto a tutti ragazzi è la marco è la marco quella non fare confusionamento bravo sei tra gli ultimi dieci bene ritorno non è più disponibile arriva il gas marco la nuova zona sicura guardate un trucchetto chat vi faccio vi faccio vedere un piccolo trucchetto per la chat allora su sta casa qua su rabbit potete fare questa cosa guardate adesso mi è uscita male dalla finestra potete andare alla scala diretto tipo così e vabbè mo figa quando devo farla vedere non mi esce strano 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 mamma mia comunque vabbè se lo fate bene vi attaccate subito qua salite subito e se fate questo tipo vi tirate una steam qua così e correte ragazzi ragazzi easy easy e perché già lo sapete com'è no? col dompana già lo sapete no? avete visto che bel push alternativo abbiamo fatto? va vai affanculo non mi toccare va a me non mi devi toccare perché sono intoccabile fratello che mi push così a me non me ne fotto un cazzo e ricordatevi raga usate la testa usate la testa guardate eh adesso mettiamo anche un'altra maschera boh ci siamo ci siamo ciao angelo ciao 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 mario ciao gelmi girardo ciao francesconi grazie per la per lo sci grazie per la condivisione grazie per il laichettino bello mio e boh bombadamento fallito ma voleva la win angelone ma cazzo ma qua dov'è la win? porco due bomber cosa bomber togli sta pubblicità bomber porco due non mi chiamare bomber spam di gg chat porco due spam di gg dai cazzo ciao salvatore raffaele benvenuti a tutti Antonio grazie fra maker grazie per la condivisione fratello è nel vecchio season pass c'era early ciao dios claudio benvenuti a tutti ragazzi ciao allora facciamo una win su rebir ci siamo scaldati un attimo stai calmo ahaha grande dieghito come stai diego tutto bene? bentornati ragazzi ci sono 30 sub che ballano che ancora non le ha prese nessuno ragazzi controllate le notifiche qui sotto qui sotto se avete vinto la sub ragazzi il sticker li sta facendo il mio editor Nicola perchè mi ha fatto prima la parte vedi aspetta aspetta l'overlay questo overlay qua lo vedi? mi ha fatto prima tutto questo overlay qua non so se lo vedete non so se lo vedete qua sotto attorno alla webcam vedete che figo che è poi mi ha fatto tutte queste cose tipo il cambio di scena figo così questo cambio di scena figo mi ha fatto ancora raga sulla pagina facebook logo tutte cose minchia qua diego lascia stare e poi raga come si dice adesso mi sta pensando agli sticker sta facendo due cose in stack capito Nicola? perchè non poteva far tutto insieme bro perchè credimi è un pack che devi stare dietro fratello boh non lo so tanto capito 8 giorni ore settimane ciao Mario Andrea benvenuti chat faccio scegliere a voi andiamo di caldera rabbit o fortu skip vai scegliete voi leggo io leggo io e in base ai commenti chi ha più voti farò quella modalità vai prima che start a caldera però dai scegliete chat scegliete che bello che hai visto erli bello per modo di dire insomma ciao paolino grazie per il like alla fine di questo season pass ce l'hai rabbit abbiamo 3 rabbit un caldera di samu 2 caldera davide agostini è un pezzo di merda lo picchierei adesso lo denuncio rabbit eh no raga mi sa che qua vogliono rabbit eh mi sa che qua vogliono rabbit ragazzi mi sa che qua leggo più rabbit dai facciamo un'altra rabbit e poi andiamo a fare una caldera pazza dai 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 ci sta Miami dai vai dai soddisfiamo tutti dai dai facciamo una caldera al volo al volo una caldera non scappate facciamo anche una caldera per gli amanti della caldera no della caldera di caldera zombie vanguard ah 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 Cioè, tipo 45 minuti per caricare, no? Cosa ne dite se ci scambiamo il posto, dove siamo andati, o dove andrete in vacanza quest'estate? Sono curioso, sono curioso. Ditemi un po', dove andate, dove siete andati? Vai, voglio sentire. Sono talmente bot che muoio anche con gli... Ma va che zombie non è facile, Tom, eh? Appena poi diventano di cazzuti, fra che gli dai 40 colpi e non muoiono, non è difficile, cioè non è facile. Tutto bene, Nicolò, tutto bene. Bene, tu come stai, fratello? Tutto bene, Nico? Benvenuto, comunque, grandissimo. Ciao, Noemi, Nicolò, Samu, grazie a tutti per il like. Stamattina si parlava bene di te, altrove. Dove si parlava bene di me, Samu? Dimmi, dimmi. Se si parlava bene, puoi dirmelo. Sardegna, sabato sera parto. Dove vai di bello? Portorotto, bello, cazzo, bello. Puglia, già fatto. Dove sei andato in Puglia? Dove siete andati? Anche quelli che sono andati, raga, dove siete andati? Vacanza. Comunque sono curioso di sapere dove si parlava bene di me, signor Samu, eh? Sono sardo e resto qui. Ok? Angelo Piras. Aspetto la camera io, Angelone, eh? Sapete, raga, che non sono mai andato in Sicilia, in Sardegna, Calabria, Puglia, questi posti qua, mai andato, raga, mai. C'è proprio il sud, 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 mai andato. Crociera MSC. E dove va questa crociera, Mario? Che giro fa, fratello? Brindisi, la mia città. Com'è Brindisi, Diego? Bello? Ci sta? In una diretta speciale. Di chi, Samu? Dimmi un po', dimmi un po'. Sono curioso, dai, dimmi. Ciao, Christian, benvenuto, bello mio. Lunedì vado in Liguria, ad Alassio. Sono andato anche io ad Alassio, sette anni fa, con la scuola. L'unico coglione che poteva cadere in acqua senza il cambio ad Alassio, chi poteva essere, se non il Don Fanon? Il Don Fanon. Quindi, non ho un bel ricordo di Alassio. Allora, allora. Comunque, raga, è tornato l'STG, eh. Se volete una... Si sta dicendo che se avete una camera in più vi faccio il live coaching. No, raga, io devo troppo venire a trovarvi tutto il sud Italia. Cioè, tutti i miei follower del sud devo troppo andare a trovarli. Calabria, Sicilia, Puglia, Sardegna. Tutti quei posti lì che vedo solo su Google Maps. Don Fanon, magari è ora di andare. Napoli, Positano, Amalfi. Per condurre, non sono mai andato in un po... A Roma! A Roma non sono mai andato! Raga, a Roma! Sono di... Sono italiano da vent'anni e non sono mai andato in Sicilia, Sardegna, Roma, Puglia. Da nessuna cazzo di parte sono andato, raga. Ciao, Vincent. Grandissimo, Vincent. Buongiorno, fratello. Come stai? Un saluto da Bari. Saluto, fratello. Carlo. Carlo, per me è Napoli, però è qua nel cuore. Napoli la voglio fare, fratello. Napoli per un discorso culinario, per un discorso proprio del posto. Napoli va fatta, ragazzi. Ciao, Vincent. Ciao, Carletto. E dai, almeno a Roma, capitale, vieni, ci becchiamo tutti lì. Oppure al mare... Minchia, Anciarica, veramente. Cioè, faccio ridere, oh. Cioè, ho vent'anni, non sono mai andato a Roma, Anciarica. Ma dico io, ti rendi conto la vergogna che può avere questo ragazzo di nome Donfana, cioè... A Roma. Alla capitale non sono mai andato, ragazzi. Mamma mia, vergognoso. Per forza, Mistica, per forza, raga, che avrò tempo. Ecco, Cosa gli hai detto? Cosa, cioè, come... Cosa han detto, bro? Loro mi vogliono bene. Ciao, René, benvenuto. È vero, Cristian, minchia. Loro non sono l'unico coglione. Grazie mille, Cristian. Siamo in due, Cristian. Ti pago io il volo. Andiamo insieme, va. Siamo scandalosi, però siamo italiani. Perché anche io, alla fine, sono anch'io un po' italiano, userei dire. Metà italiano. Cioè, non posso non essere andato veramente a Roma una volta in tutta la mia vita. Sta arrivando un nemico accrezione e altro. Sei vergognoso, Roro. Mamma mia, quando mi succede sta roba qua che ho due piselli in mano lunghi 30 metri per 30 che se cambio arma sono lento, uguale, come prima. Sono sempre un coglione. Mi stanno suonando mi stanno suonando alla porta. Porco, due. ma mi stanno suonando alla porta che sembra un missile. sarai sul campo di battaglia. Se perdi, non potrai f***erlo. Risolvi con le maniere forti o cattura l'obiettivo. Picca, Caino, picca. Sarà, posso... Buongiorno Anto, fratello. Come stai, Antonio? Buongiorno, buongiorno Anto. Comunque... Inizio settembre... Lunedì prossimo... Lunedì ci sei, fratello, che continuiamo con quella cosa lì? Scusami, mi sono perso. Infatti, mo' che sei entrato in chat mi sono un po' rimasto male perché ho detto, cazzo, mi sono dimenticato di iscrivere Anto. Oh, raga, c'è il mio cane che piange. Adesso, Fiocco, vieni qua un attimo. Vieni qua un attimo, Fiocco. Vieni qua un secondo. Vieni qua, Fiocco. Vieni. Fiocco. Un po' il biscotto, vieni. Un secondo, raga. Adesso restarto perché sta partita qua tra il mio fratello che c'è bisogno della crema e il mio cane che piange. Insomma, non è stata tra le più belle. Tutto bene, Angelone. Tutto bene, dai. Non mi lamento. Aspettate. Arrivo, ragazzi. Vi porto un piccolo special guest che sta piangendo. State qua se volete vedere un bel cane. Sfidatevi. Fidatevi del dono. Arrivo. Perchè piangi tu? Che piangi? Eh? Che piangi? Che piangi? Che piangi un po' Ti tracciai. Che piangi? Eh? Che piangi? Ciao. Oh. Oh. Mi dispiaceva, raga. Era lì che piangeva. Fiocco, toh. Toh il biscotto. Toh il biscottino. Toh, Piri. Scusatemi, raga, che gli do il biscotto. Biscottino, ovviamente, di qualità. Se no, neanche gli li diamo al cane. Toh, Pioco. Comunque, Caldera. Ciao, ci vediamo domani, Caldera, eh. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Grazie per la partita. Grazie mille. Ciao, ciao. Ci vediamo dopo domani, no? Ah, no. La vuoi startare fra una settimana? Va bene, ci vediamo fra una settimana. Vai tranquillo, tranquillo. Va bene, ci vediamo fra una settimana. Entra nella... Eh, no, non attacca, non sa quella parte lì, Samu. Non la sa ancora. Comunque, allora, ha lasciato qua 3.000 peli. La Sardegna, un posto che mi ha preso il cuore a gente gentile. Eh, io vorrei tanto andarci, raga. Anche di che tipo di vacanza vuoi fare? Eh, che senso, Mario? Una vacanza tranquilla. Ciao, Zeno, come stai? Grandissimo, tutto bene? Grandissimo, Zeno. Dov'è, Wanda, Zeno? È un po' che non la vedo. Dona i pantaloni da drag queen di riservi. Ma che cazzo di drag queen? No, li tengo, li tengo in casa. Raga, sono leopardati, li tengo in casa. Che cazzo me ne favo per farci la live? Cioè, che cazzo, non è del giudizio degli altri? Non me ne favo te cazzo! Ma io volendo posso andare anche in giro con i pantaloni rosa e se qualcuno mi dice qualcosa gli dico, eh, che cazzo, ma che cazzo vuoi? Gli dico, ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo, ma che, ma che, ma che cazzo vuoi? Eh, sta minchia di caldiere ci mette tre quarti d'ora per startare, mamma mia, oh. Ciao Michael, io vado in vacanza il 22, il 22. No, e che cazzo di 22? Don Fana, ci svegliamo? L'11, l'11 e torno il 22. Ciao Anto, fratello, come stai Anto? Tutto bene? Visitare città oppure mare? No, io visiterei tutte e due, sinceramente farei una cosa insieme, cioè, farei tipo, non so, Napoli, città, tre, quattro giorni, farei poi, non lo so, Amalfi, Positano, qualche isoletta, così altri cinque giorni, capito? Farei una cosa così. Vanda, finito gli esami, sta lavorando per tirare su qualche scheo. Ah, grande, Vanda, e tu invece, Zeno, cosa fai, bro? Sei in vacanza, lavori, cosa fai di bello? Ma no, eh, leopardate, eh, sei troppo, donne, grazie mille, Samu, ho letto adesso. Caldera è la modalità che ci mette, e a Ischia, ovviamente, ragazzi, dove c'è Antonio Angelino, che mi fa un bel polpo, me lì, proprio, proprio dalla mano di Antonio, a Ischia, per forza. E Ischia, ragazzi, se vado a Napoli, e non vado a Ischia, Antonio, portano, cioè, insulta il Donfana, dove cazzo vuoi, ovunque. Vai Firenze, allora, Firenze è bella, regà, anche Firenze, tantissima roba, e so che, in Toscana, raga, ci sono, hai attivato i cheat, prima di iniziare, no, hai ragione, aspetta, e Massis, ok, alzo un po' la rotellina, aspetta, un luck, giro anche un po' il monitor, così non si vede, aspetta, Silent Aim, ok, ci siamo, attivato tutto, ragazzi, fatto. Comunque, regà, settimana prossima, arriva l'omino, quello, quello da picchiare, preparatevi con le challenge, perché quell'omino lì, regà, prenderà tante di quelle botte, ma tanti di quelle botte, ma tanti, 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 tanti di quelle botte, e veramente lasciate stare, sarà alto tipo così, regà, sarà alto una roba così, sarà tipo in lattice, una gomma lattice così, e poi, ogni volta, cioè no, ogni volta no, perché sennò poi diventa noioso, e invece, minchia, oh, Thomas, non ve lo dire due volte, scusami fratello, non ho letto, comunque sì, frate, io vengo, scherzi, però, quando è che vai? Regà, col manichino lì, veramente, ma lo picchieremo in un modo, cioè ve lo giuro, a me mi ammazza uno dal dietro, io mi alzo, proprio come farò io settimana prossima, una, due volte a live, giusto per il meme, mi alzo, e sono cazzi suoi poi, e poi non ne voglio più sapere niente, poi, cioè, veramente, lo chiamerò Michele Stura, perché è tutto pompato, sabato sera, allora, lascia a casa mia moglie, andiamo io e te, Thomas, per me andiamo insieme, ma poi te lo dico, torni, torni per fare il divorzio, con tua moglie, perché quello che succede là in Sardegna, non ne voglio sapere niente, poi io, ciao Joel, fratello, come stai Joel, tutto bene? Bentornato il grande Joel, eccolo qui, ciao Aurelio, Davide, benvenuti a tutti ragazzi, io fratello ti lascio, dove vai Erli? Scappi di già, va bene, va bene, ah, vai a cucinare, vai a cucinare, grandissimo Thomas, comunque stavo dicendo ragazzi, per i toscani, che qualcuno mi ha detto, fai un giro a Firenze, poi vai a vedere la Maremma, cioè, in Toscana, io pensavo, sinceramente, per la piccola ignoranza che ho io, pensavo che in Toscana non c'era il mare bello, no? Perché sono andato una volta al mare in Toscana, ed era un mare normale, cioè, invece mi ha fatto vedere di quei posti in Toscana, che non è che spaccano i culi, di più, di più raga, cioè, io non sapevo un cazzo, oh, qua, dobbiamo fare il giro dell'Italia, oh, ah, ma, merdi, sì, 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 no, ho visto, ho visto, ci sono dei pochi, tonche, veramente, fa un paura, la priorità è uccidere tutti, all'attacco, sei proprio un bastardo, tu, comunque, Davidone, vero a trovarvi tutti, raga, vedrete che vero a trovarvi tutti, il don fanane, la merda, sì, sì, me le ha appena donate, Antonio, le ha appena donate, le ha appena donate, fratello, le ha donate, le ha donate, ma ti ringrazio ancora, Angelone, ti ringrazio, fratello, grazie di cuore, sempre ringraziare chi ti aiuta, perché un domani, queste qua sono le persone, che quando si presenteranno in chat, sono le prime persone che devi trovare, tra la chat e salutare, voi sarete i primi, e io vi porterò sempre rispetto, ragazzi, rispetto, cioè, se un giorno farò mille spettatori, per dire, io i vostri nomi me li ricordo tutti, raga, tutti, tanti streamer si dimenticano di questa cosa, poi, di chi li aiuta, secondo me, non è una bella cosa, ciao, franci, tutto bene, tutto bene, tu come stai, va bene, va proprio, va bene, minchia, frate, Genova, anche lì, ho dei parenti, quindi, per forza di cose, ci devo passare, capito, fratello, no, praticamente, facebook gli aveva, tipo, comprato 25 abbonamenti, raga, e poi non gli aveva fatto il rimborso, no, quindi, cioè, era un bel macello, poi alla fine, ci siamo videochiamati, appena ho staccato la live ieri, e dieci minuti dopo, mi ha detto che comunque, facebook, gli aveva appena, annullato il pagamento, e quindi le ha donate oggi, Antonio, ma le ha donate, infatti, ce ne sono ancora, tantissime da riscattare, di sub, ragazzi, controllate, perché veramente, sono infinite le sub, da riscattare, veramente, ciao Tom, bello mio, grazie per essere passato, Thomas, grazie di cuore, bro, mamma mia, ragazzi, ma come li sono sceso, porco due, oh, non lo sapevo questa, giuro, non la sapevo, raga, l'ho provata, ed ha funzionato, cazzo, ha funzionato, non ci credo, giuro che non la sapevo, raga, c'è questo spottino qua, mai usato, mai, mai, non ha senso, veramente, spottino perfetto, ma zio, però, che due coglioni, quando mi si blocca, così, questo è il gulag, ciao Francesco, Aurelio, Marco, Alessio, grazie a tutti per i live, sì, sì, meno male, però almeno non sono finita da qualche parte strana, almeno quello, raga, comunque appena fatto partire una pausa, ragazzi, 30 secondi, se vedete una, una pubblicità un po' lunga, fronte, perdi, e te ne tornerai, vai, e fatti valere, soldato, fenomeno, ciao Nico, benvenuto, bello mio, ciao Anessio, benvenuti ragazzi, buongiorno, hola Nico, come stai Nico, tutto bene? Come te la passi, sei a lavoro? Che combini, ho pezzente qua, oh, mamma mia, però zio, muoreci anche tu ogni tanto, fratello, muoreci anche tu, mamma mia, Meglio, o, 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 Michele, i miei lobby, comunque su caldera, ragazzi, sono, porca puttana, sono, lascia stare, buongiorno Daniele, come stai Dani, tutto bene? Siamo bruciando, mamma mia, bruciando dal caldo, raga, per, ma bruciando proprio, oggi cosa mangi, donna? Oggi, Antonio, ti devo mandare, quello che ho nel frigo, e me lo devi dire tu, ragazzi, non ho un cazzo, però, è letteralmente un cazzo, veramente un cazzo, non ho niente, è un messi male, non so veramente che cosa mangiare, o pensa che è brutto, che figura di merda, ciao Lino, bentornato, Lino, come stai? Comunque ragazzi, posso dirvi una cosa, chat? Dato che, sì, non ho un cazzo, è venerdì, bro, è venerdì, delivero al volo, eh, ci starebbe, ma, qua da me arriva solo il, il poché, e non ho voglia di poché, adesso, comunque, raga, vieni Davidone, vieni, 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 vieni Davidone, vieni, venga signor Davide, ma facendo lo streamer, si rimorchia, è una domanda la tua Stefano, perché io ti rispondo sinceramente, tutto bene dai, sono contento, sono contentissimo ragazzi, sono mega contento, ho bevuto troppo, meglio se, mamma mia, cai in faccia, così proprio, mamma mia, così in bocca, mamma mia, che quick zio, mamma mia, qua c'abbiamo proprio la, c'è un soldato nemico, no, 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 ma non ce l'hai proprio, Davidone, ma non ce l'hai frate, è diverso, cioè, mi sa che non ce l'hai più, però ho capito, le cose da moderatore, te le fa fare, però ti ha tolto il badge da moderatore, ma io dico, porco due, battaglia, cioè, che cazzo, grande England, benvenuto, bello mio, come stai England, tutto bene? io non lo vedo da un bel po' di giorni, Davidone, fai te, fai te, ciao Esther, come stai Estherina? tutto bene? vai, si, dovrei, 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 si, 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 Samu, Ma controlla le notifiche di Facebook Magari hai vinto la sub bro Che fai senza badge ancora Raga non lo vedevo Non lo vedevo sto cane Non lo vedevo porco due Anche secondo me Chi ha progettato Facebook Gaming Fratello stava facendo la carbonara nel mentre Grande Esterina grazie per i like Va bene Ester giochiamo? Ci sei? Arrivo 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 Ester sei live? Che cane che mi spara quello dietro Mamma mia Mamma mia Yuri mio fratello Grazie per la condivisione per i like Yuri benvenuto No raga io non vedo No no niente live arrivo arrivo Ester No comunque raga io non vedo nessun badge di nessun moderatore Non so perché Non so se anche tu Ester hai questo problema in live Ciao David Come stai? Va bene Ciao Rami Mattia Benvenuti ragazzi In grande Rami Attia Anche lui non parla proprio Grandissimo Rami Cos'è la poverella? Con la lì dici? Si chiama così? Ciao Annè Davide e Angelo Grazie a tutti per il like Angelone adesso metti il like Mannaggia lei Angelone Mannaggia Mannaggia Si spinge Kill sempre Contratto scaduto Completate il prossimo Mamma mia Yuri E' impazzito anche Yuri ragazzi Con i 5 abbonamenti anche lui Mi sa che sto mese vogliamo arrivare a 300 Non a mia Ah 200 Già Lapo benvenuto però Guarda come ha vinto la sapettina Mamma mia Yuri on fire Subito Ah va Ester Oggi sono impazziti Ester Oggi ha regalato 25 abbonamenti prima Più 5 di un altro ragazzo Più 5 di Yuri Serra adesso Più altri 2 Che ha donato un altro ragazzo No rega Cioè pazzi Veramente Vi voglio bene Sono 10 5 Quante sono queste di Yuri? Sì Grazie Grazie Mamma mia zio Mamma mia Quintato gioco Coizio Mi dissocio Mi dissocio Mamma mia che turnata Zio Grazie mille Yuri Per le 10 sub Fratello Io Yuri li voglio troppo bene Rega Yuri Yuri Davide Questi qua Rega Cioè tipo anche Davide È il mio moderatore Ma quando l'ho visto dal vivo Ci abbracciavamo Sembrava Sembravamo fratelli Avanti così Davide Come stai bro Tutto bene Amici Ah zio Ma allora Te non muori Te è diverso Te non muori È diverso Non vuoi morire Ciao Paolino Grazie per il like E la condivisione Fratello Ciao Yuri Lapo Benvenuti Mamma mia Ragazzi Mamma mia Davide Agostini Ha droppato anche lui 10 sub Voglio bene anche te Rami Vi adoro Raga Vi adoro Ciao Che cazzo state facendo Rega Io vi ringrazio Raga Io 7 mesi fa Non sapevo che cazzo fare Nella mia vita Rega Cioè adesso Meno male che ci siete voi Che mi supportate Mi volete bene Rega Vi ringrazio di cuore Giuro Non è un discorso economico Oltre per i soldi Delle sub è tutto Rega Mi volete bene E io amo questo Rega Vi voglio un bene dell'anima Giuro Vi voglio troppo bene Credetemi Ciao Grazie mille Rega Grazie mille Davide Grazie mille Rega Vi adoro Grazie Paolino Per le 100 Che però Grazie mille Mamma mia Sono già Raga Ormai mi vedrete Bianco Mi vedrete bianco Sicuro Grande Luca Lorenzo Tia Esther Guarda come hanno vinto la sub Tutti Ridvan Benvenuto Domenico Sì adesso arrivo C'è anche Esther Con noi Grazie Davidone Ciao Gaetano Grazie mille Nico Vi voglio bene Vince come stai Fratello Mamma mia Zio Oh nice Mamma mia Oggi state facendo un casino Con ste sub Ragazzi Ve lo giuro Grazie Paolino Per le 300 Mamma mia Ciao Andrione Buongiorno Bello mio Mamma mia Cosa sta succedendo Ragazzi Non lo so Grazie Paolino Per le 500 Però Raga Io Io vi posso Solo che Che ringraziare Per il supporto Che state dando A un ragazzo di 20 anni Gli state dando modo Di fare Un lavoro diverso Da tutti gli altri E Vi ringrazio Ragazzi Vi ringrazio di cuore Perché Senza di voi Non ce l'avrei mai fatta Non c'ero Mamma mia Io sento rumori di sub Qua Cos'è Cos'è Grazie Paolino Per le 100 Mamma Che sta succedendo Non lo so Regà Fatemi giocare Regà 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 Vivi Regà 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 Angelone ha troppato Altre 5 sub Grazie mille Angelone Bacione bro Lapo Anche Lapo Ho donato qualcosa Mi sa Anche Lapo Ho donato una subettina Grazie Lapo Paolino Grazie per le 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Grazie per le 1200 Bro Raga Vi ringrazio Vi ringrazio Vi ringrazio di cuore Vi ringrazio Ciao Esther Come stai Esther Buongiorno Buongiorno Esther Tutto a posto Ma Fai La chatte del don Stamattine Amici Oggi Scusa Non ci volevo invitare Al reggimento No tranquillo Tranquillo Sei partito Vai tranquillo Metterti a piangere Ciao Davidino Raga Non lo so Veramente Grazie 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 Don Grazie Giuro Innanzitutto Vabbè Per i soldi Che sono Sicuramente È una bella cosa E quella Vabbè Non lo metto in dubbio Vi ringrazio Però raga Cioè sapere che ci sono 60 Fottute persone Che alle 12.39 Di venerdì pomeriggio D'estate Sono qua a seguire me A supportarmi A sopportarmi A volermi bene Ragazzi Credetemi Quello Quello fa molto di più Dei soldi stessi Raga Credetemi Sopportati Sopportati Grazie Rami Per le 150 Grazie mille Grazie mille Diego Vogliamo vederti in alto Raga Speriamo tantissimo Speriamo che un giorno Veramente Non in alto Di più Mamma mia Antonio Anche lui Mamma mia Ragazzi Ma cosa state facendo Raga No raga Io non ho parole Io non so cosa è successo Stamattina Non so se vi siete organizzati Non so come cazzo Siete rimasti voi Ma mi state facendo impazzire Ragazzi Giuro Mamma mia Grazie mille Antonio Per le 10 Bro A sto giro Allora partecipo anche io Grandissimo Antonio Grazie mille Anto Grande Carmine Grazie per il follow Bello mio Benvenuto Carmine Controllate la 3 Grazie a te Bello mio Benvenuti a tutti ragazzi Questa qua è la Donfana Family È una famiglia Con la F grande Questa E vi do il benvenuto ragazzi Vogliono i capelli viola Capelli bianchi ormai li facciamo Raga Le 200 sablie Le abbiamo spaccate Cioè Credetemi Le abbiamo superate Da stamattina Raga Capelli bianchi Adesso le facciamo Adesso li facciamo Adesso voglio solo capire Vai Yuri Yuri Anche se non mi donavi Le 10 sab Fratello Il Il Come si chiama Il Con la F di fregna Il coaching gratuito Per i Per i moderatori È gratis bro È ovvio Già A prescindere Grazie mille a tutti Raga Voi siete pazzi Basta allenarsi Affronterete dei veri nemici Vi voglio bene anch'io Carmine Veramente però Vi voglio un mondo di bene Fratello Vi voglio un mondo di bene Voglio bene Cioè Non lo so Io sette mesi fa Raga Volevo andare a vivere in America Io non sapevo dove cazzo andare Sette mesi fa Volevo scappare Volevo andare in America a vivere Volevo provare a vivere là A fare qualcosa là Sì è gratis Samu Per voi è gratis Invece raga Sono finito con 60 persone Che mi stanno abbracciando Tutto il tempo Mi stanno abbracciando Grazie Nicola Per la sabbia in regalo Anche lui Mamma mia Contro Sono impazziti Giuro Grazie Nicolino C'è un team Mamma mia ragazzi Stai calmo Mamma mia ragazzi Setti ragazzi Sei l'ultimo Davidone Cominciamo bene Mamma mia Giadina Vintelo Sam Giadina Vai Giadina Ci siamo cazzo L'abbiamo vinta Vai Giadina Mo devo per forza Venire a Ischia Viga Mo Mo mi avete dato I soldi per i biglietti Per venire da tutti voi Giuro Mo venga a trovarvi cazzo Grazie Nicola Per le due sub Anche a te bro Giadina L'hai vinta la fine Che cazzo Dai Andreone Sarà mega contento Sono sotto attacca Io sono provincia di Lecco Caetano Sono in un paesino In provincia di Lecco Ci scelera E non ci scelera Ma va Verrà a nevicare Sto giro Per che cosa Per voi Per il pompa Ma venga Domani nevica Andrea Tirate fuori i giacconi Ragazzi Perché Giada Che è la ragazza Di Andrea Che Andrea È un ragazzo Che in chat Spesso e volentieri Dona sub Stava sperando Che la sua ragazza Vincesse la sub Ma tipo Da tre mesi Che spera Oggi Ce l'abbiamo fatta Lecco Sì Sono di Lecco Perché in genere Diciamo che Leccare A noi lecchese Ci viene bene Porca Puzza Sono in tre Avete visto che Sniperate Gli ho dato Sti due Raga Ma veramente Ci vediamo Bro Ma quante volte Vuoi Puoi Tra Napoli Esiste Tele Napoli Alecco C'è Tele Lecco No No Non c'è Tele Lecco Qua Qua c'è Tele Lombardia Qua Ciao Papu Ciao Fatmir Vai Con ex Con ex Con ex Infatti Minchia raga Sta lobby qua C'erano Savi Ultras Jesus JR Lobby Tutti ce le avevamo Boh Raga Io comunque Allora ci becchiamo Comunque fatemi fare il conto Di quante sub Avete droppato Stamattina Stamattina Avete droppato Esattamente Esattamente Proprio per filo E per segno Uno Ventisei Ventisette Ventisette Di sette Più cinque Trentadue Quarantadue Cinquantadue Cinquantatré Cinquantatré Cinquantotto Sessantotto Settantatò 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 Ragazzi Spaccate Avete regalato Stamattina Ve lo dico Settantatò Le ho appena contate Dai che arriviamo A cento Mamma mia Se riusciamo ad arrivare A cento Però io Mi taglio i coglioni Live Non lo so No che potrebbero Servirti quelli Non li faccio Per gli altri Esatto Hai ragione Hai ragione Fai qualcosa di Rimediabile Esatto Esatto Ti taglio i coglioni Live Ciao Giancarlo Ciao Salvo Ciao Michele Ciao Chris Buon pomeriggio A tutti ragazzi Settanta sabba Avete regalato Ragazzi siete pazzi Te le lecco Era ironico Ah ok ok No comunque qua E' tele Lombardia Te le leccano In quel senso Lì No Troppi Non era per capire Perché tele Napoli Te le le Guarda Scusa Antonio Chiedo scusa Mi lancio Mi lancio Cosa ho visto qua Ho visto Angelo Con 5 sabba Ancora Mamma mia Mamma mia Mamma mia Angelo 5 sabba Andiamo 75 Ragazzi Dai che ne mancano 25 Per le 100 Mamma mia Mi sembro Il rennaio Oggi mi sembro Il rennaio Dai 25 sab Tocchiamo le Mica se riusciamo a toccare Le 100 sabbi In un giorno Veramente Faccio la live In mutande Come ha detto Andrea Veramente La faccio Scherzi Ma la faccio Orco Due Ma metterai le pugno Orco due Mamma mia Angelone Oggi è impazzito Veramente Angelone Ti voglio bene Ciao Nicola Buongiorno Grandissimo Come stai Grazie Angelone Per tutte le sabbettine Dai raga Che arriviamo a 100 Le finiamo Peccato Perché non si può Non Si Stano più Dari squadra No ce ne sono Ce ne sono È risolto Poi confessi Sì Danny Danny ma lascia stare Che stanno impazzendo Hanno donato 70 Sub stamattina Danny Te lo giuro Non ho più parole Grazie Cristian Per le 50 No per le 100 Cristian E Danny per le 50 Grazie mille Ciao Nicolino Grazie per il like Grazie anche a te Danny Dai ciao Arriviamo a 100 Sub regalate E poi non so Che cosa dire Veramente Cioè boh Eh ma è proprio Un problema di tutti Yuri Generale Mi sa E io con quegli Contatto Glielo chiedo Perché mi da fastidio Che il mio Moderatore Non si vede il badge Uccidete tutti Via Grazie Michellone Con la sabbettina Il regalo Michi Dai ce la facciamo Ad arrivare a 100 Dai Grazie mille Michi Per la sabbettina Il regalo Grazie 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 Secondo me Ce la facciamo Ad arrivare a 100 Sub Che pazzi Scatenati Di nulla Simo Di nulla Simo Guarda Lascia stare Oggi ho fatto un macello Ragazzi Mi importa solo Che chi vince L'abbonamento Almeno un grazie Alla chat Lo scrive Almeno Dai Rispetto alla base Di tutto Ragazzi Oh cos'è Lo ha fatto l'olta Si ce l'ho qua Lì Pietro Lì Pietro Lì Pietro Lì Pietro Vai No mi metto in mutagno Se è arrivata a 100 Terra Una pastoglio Dietro 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 L'agente Preso Esther A terra Bravissima L'agente qua sotto Un attimo Che non hanno Arrivo da te Da vidone No dietro 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 Ehi si facciamolo Facciamolo Lasciamolo Lasciate andare Grazie per le 100 Cristian Grazie mille Oh zio Arrivano UAB UAB Alleato In voto Il gas S'è ancora più vicino Amico Inanna Capurata Puoi respirare D'acqua Sembra Un attimo 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 Un tuo alleato Un appena rientrato Un tuo Un appena rientrato Un attimo Un attimo Un attimo In arrivo nell'area Per forza di cose mi devi sparare Stacco il bambino Fatto E' uno qua? era giovane cosa avete ragione ci alzano solo un minchione io presta bene per 5, tieni gli occhi aperti no danno i rinforzi sono in arrivo attacco a grappolo attivo ciao danno grazie per il likes pure to dai dai se riusciamo ad arrivare alle 100 sa pregalate oggi raga io veramente shocker torno mamma mia hai visto che click gli ho dato mamma mia buongiorno matti buongiorno come stai ciao buongiorno buongiorno hai visto che che guantappata gli ho dato eh sì che mi è spesso fin me di sceglie mi sento il più forte cazzo non so perché il primo qua è ben entrato silenzio ho visto un nemico come stai matti tutto bene danny a casa anche tu fratello vai ciao sono i tuoi amici dai la facciamo la facciamo stavo passando al ingratto ok mi posso prendere un colpo abito albin benvenuti a tutti ragazzi grazie per il like oh che è è sceso è che guance quel bambolo a brosa visto qui la terra anche l'altro qua ah beh a me sono un cheater eh io comunque oh prossima allerta ritorno sta per finire riusco oltre 60 porco 2 tra gli ho fatto un 360 anomalo zio un cazzo di citer schifoso zio non mi possono accusare però a un tratto fallito e superiamo ricordo ovvio ovvio ciao angelo ciao paolo superate arrivando un nemico attenzione in alto un po' di non ce li hai sconterò a portarti in questo punto ma non riesco a riuscire uavvi nemico attivo what's it l'identità che ha passato a portare la battaglia di muoversi sopravvivi a tutti i costi non c'è un rifornimento e lo so ce l'ho vedi vedi che me l'ha appena messa la steam ciao Ivan scusi scusi sto zitto basta io dico scenderanno da qua il giro più sensato perché io quando ero su mi sparava a chiunque o li hanno già uccisi oh qua ho toccato aperto io adesso ve la faccio vedere la marco chat non ce l'ho ancora lì nei o ce l'ho ancora il giro vabbè vabbè Eeeh vabbè Ma vabbè ragazzi io comunque metterle dita nel culo alla gente non posso! Mamma mia Ci ho provato ragazzi ci ho provato Direi comunque lo spam di gg ci può stare qua eh Non era una piastra Anto era un rifornimento però era il... Come si chiama il... peccato peccato Spam di gg lo stesso per questo endgame da 23 bombe però ragazzi dai cioè non potete fare i timidoni oh Grande Nico grazie per il follow bello mio benvenuto Nico Grazie mille Vito hai visto cosa ne pensi? Mica male eh cosa ne pensi? Eh si 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 non ci trattiamo male esatto Ragazzi tutti quelli che vincono alla sabbettina un grazie in chat perché come dicevo prima Ah ma a me Davide era regalata Davide grazie Riusciva alla notifica Ma per me tranquilla te la fai pure Ho detto grazie in chat però non riusciva alla notifica di chi me l'avesse regalata No ma tranquilla Vai Erli dimmi tutto Erli dimmi pure Ciao Nicola Luigi benvenuti dimmi tutto Erli non farti problemi Dai oh le raggiungiamo ste 100 sabbettine oggi o no? Ci proviamo chat Tanto sarà una volta... Una volta all'anno sarà una cosa così ci sta Ogni tanto ci sta ci sta Minchia però però stavo giocando bene Samu eh Sincero stavo spingendo fra Parliamoci chiaro Inizio Rivali Per quanto ci sta No 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 Alla ciao francesco non si fa usare lì non ci sono io non li ho ancora li sta facendo adesso perché il mio editor mi ha fatto il mio editor ma ha fatto il è fatto per lei logo tutte queste cose qua figa non so se sistemi viste quelle nuove ester le grafiche nuove e poi e poi mi avrebbe fatto il sti che sta parte no e adesso mi sta facendo gli sticker ma sta settimana così fine settimana e escono io volevo uno spam lo spam di gli sti che era invece mi hai bloccato l'entusiasmo e beh esatto diglielo cazzo diglielo adesso ve la faccio vedere ragazzi un attimo che esco proprio dalla partita dopo questa raga mi sono dimenticato di far vedere la marco la chat facciamo che dopo questo esco un attimo a farglielo vedere e andiamo su fortuna skip a fare gli zombie vuoi andare su fortuna di una fortuna skip grazie joseph per le 50 stelline bello mio grazie joseph bacione il josepone nazionale pochi due non ho perduto ma ci fiammo tra uccidete tutti via si early sto giocando con ester si si grazie bellissimo a luca benvenuto bello mio grazie per il pollo luca ho lotti quasi che so non mi va neanche di perderlo state però ne spacchiamo tutto per forza bro attacco a grappolo allenato a zio e gli ultimi colpi di sparo in testa dov'è che vanno fratello mio dimmi un po' dimmi un po' ciao stefano ciao andrea benvenuti ma anche ester in live non lo so sei in live no non è in live ester no andrea lei non è lo andrea No, no, no. 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 No, Dimca, ciao, Leo. Grazie mille per la condivisione. Luca. Orco 2G. Ma non fare così, dai, come sei, mamma mia, eh. Ma io lo so, che scherzo. Oh no, Esther, come sei, mamma mia. Ma che sei, mamma mia. Come sei, oh. E io ti ha fatto il raggio. E io ti ha fatto il raggio. E io ti ha fatto il raggio. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Vado a fare un attimo la call, dai. Va bene? Perché... Dovevo andare... Dovevo andare... Dovevo andare a parlare per una roba seria, raga. Davidone. Di me. Giocate, arrivo, eh. Chat, ci rivediamo fra una mezz'oretta circa, perché devo andare a fare una call. È abbastanza seria, quindi... La faccio adesso. Va bene? Ci vediamo pomeriggio. Comunque che tranquilli. Sono tutto il tempo qua. Il donno scappa, ragazzi. Arrivo. Ciao. Scusate, raga, esatto. Aspetta 5 secondi. Vai, 5 secondi che vi faccio spawnare, vai. E poi quitto. Ok, vai. Vai. Ciao, ragazzi, arrivo.